Le riaperture graduali annunciate dal governo stanno mettendo in moto la macchina organizzativa anche all'Aquila dove le attività sperano di recuperare qualcosa dopo una stagione disastrosa. È il caso del Gran Sasso ad esempio nell'anno in cui la neve è stata e lo è ancora abbondante, impianti chiusi e zero guadagni per le attività. L'anno scorso in estate sul Gran Sasso c'è stato il boom con centomila presenze. Il centro turistico sta cominciando a pensare ad alcuni piccoli interventi per migliorare l'accoglienza. Ad esempio si interverrà sui parcheggi in zona Fontari per permettere l'arrivo in quota con funivia o mezzi propri ma con accessi regolamentati. Si farà biglietteri online per evitare file. Sul sito ci saranno mappe interattive. A Fonte Cerreto sarà attivato anche un infopoint. Ma il problema grande rimane quello delle strutture come denuncia il direttore della scuola scia Sergi Gran Sasso Luigi Faccia per quel che riguarda ad esempio l'albergo di Campo Imperatore o la gestione dell'hotel Cristallo che è stato ristrutturato. Per questo si è molto preoccupati. Per l'albergo ad esempio ancora non si vede la luce. L'albergo che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della ricettività di Campo Imperatore che possa dare servizi alla folla che sicuramente arriverà è completamente cadente. Ormai è diventato veramente una struttura inutilizzabile se non in alcuni locali e non si vede l'ombra di qualsiasi inizio di procedura almeno di gara di affidamento. Ci sono state varie riunioni, ci sono stati vari sopralluoghi ma comunque l'albergo rimane l'emergenza delle emergenze fra le tante, il piano d'area, i vincoli e quant'altro. Però vorrei ricordare una cosa. Non si può dare inizio ai lavori dell'albergo se non si è pensato almeno alla progettazione e all'affettuazione dei sottoservizi. Perché un albergo di quel livello ha bisogno di sottoservizi moderni e adeguati. Parlo quindi di rete, acquifera, fognature, elettricità e quant'altro. Purtroppo qui stiamo fermi, pesantemente fermi e sinceramente io personalmente ma credo di esprimere l'opinione di tutti quanti siamo veramente preoccupati per il Gran Sasso.